Festa di fine anno dell'anno accademico di Assofram, scuola di formazione professionale a Casoria in provincia di Napoli La festa continua, si palla con l'animozione di Flavio Sly Assofram White Party, guardate Una location fantastica qui a Nistida, si chiama Naif, si vede tutto proprio, è adagiato sul mare Perché tutto questo? Perché Assofram, scuola di formazione professionale, a conclusione dell'anno di formazione Ha deciso il presidente Tolpagano di riunire tutti, ma dico proprio tutti, di Assofram e fare questo bel regalo con questa grande festa E ci sei riuscito, complimenti Ciao Dino, buonasera, un saluto ai nostri telespettatori di Weekend Dance Io ho voluto festeggiare questo fine anno formativo proprio con tutti i miei allievi Perché spesso durante l'attività dell'anno non si ha il piacere di poter condividere anche momenti come questi Che sono momenti di aggregazione dove si mette un po' da parte il momento della formazione E si ha modo di rendere il tutto una conviviale fantastica È un momento meno istituzionale Sicuramente, poi in questa location stupenda, in questo locale nuovo, in Naif, che sta qui in Giunisida Dove siamo, come hai detto tu, adagiati sul mare Bellissimo Invitiamo le persone che ci guardano la casa a venire in questo posto, Naif, qui proprio adagiati all'Isida È l'apoteosi del bello, perché davvero è un locale splendido, molto chic E poi i proprietari sono delle persone eccezionali che ci hanno ospitato E ringrazio anche loro per averci dato questa bella possibilità Turn the lights down low and kiss me in the dark Cause when you're touching me, baby, see sparks La mia domanda è un'altra, Raffaele Come mai il pretesto, l'idea di creare, di raccogliere tutti i tuoi allievi Evidentemente durante l'anno scolastico uno sai, frequenta i corsi Si lega anche a un'amicizia vera, profonda Questo l'ha voluto portare e trasmettere qui al Naif questa sera? Vero, assolutamente sì Perché noi siamo una grande squadra La squadra non è solo il mio team, da me è capitanato Ma è tutto il gruppo dei miei studenti Perché è chiaro che loro poi sono il grande veicolo pubblicitario Quindi noi lavoriamo sulla qualità La qualità vuol dire anche questo, aggregare Aggregare il gruppo dei nostri studenti e creare continuità Noi abbiamo stasera anche qui tanti allievi dei corsi precedenti Che sono venuti a trovarci Quindi una grande soddisfazione ritrovarli E condividere proprio l'emozione, dell'amicizia, della stima e dell'affetto Tutti sotto un unico colore, il white party assafrano Ebbè sì, abbiamo dato questo tema in estate Quindi un colore bellissimo, splendido, candido Come siamo un po' noi, persone semplici Che vogliamo vivere questi momenti di grande aggregazione Quindi è una dimostrazione di affetto ai nostri allievi Che meritano tra l'altro questo momento E allora continuate a guardare le immagini di questa grande festa Di Assofram White Party qui al Naif a Nisida Guardiamo ancora l'immagine My heart is a ghost town My heart is a ghost town My heart is a ghost town Grande festa di fine anno Qui al Naif di Assofram School di Formazione Professionale I vostri nomi? Connie Martina Voi siete allievi Assofram Come vi siete trovati al corso? Animatrice socioculturale Come ti sei trovata? Bene? Benissimo E tu invece? Anche io faccio la stessa cosa sua Trovata bene? Sì Tu sei un allievo Assofram? Sì, sì Quale corso hai seguito? Visaggista e truccatrice Come ti sei trovata? Benissimo La festa? La festa? Bellissima Sì Tutti in bianco tranne te Sì, sì Fatti I'm happy the week is over Time for Saturday to begin Gonna get out, I'm gonna party Telephone all of my friends Hai seguito qualche corso Assofram quest'anno? Sì, sto frequentando il corso animatore sociale Come ti sei trovato? Benissimo, alla grande Stiamo continuando ancora E verso ottobre e novembre finirà questo bel percorso E' falsa la pena insomma Sicuramente, sì Un futuro di animatore, perché no? Eh certo Anche in sede animatore ed educatore In bocca al lupo allora Crepi Anche tu hai frequentato un corso Assofram? Sì Quale? Ed è acconciatore È stato un bell'anno, ti sei divertita? Bellissimo, stupendo Ti sei trovata bene? Benissimo Il corso di massaggiatore del benessere Come ti sei trovata? Molto bene Anche all'inizio però molto bene Questa sera grande festa, tutti in bianco Ricordosamente Ti stai divertendo? Molto Fa troppo caldo però Lei non ha frequentato un corso d'Assofram Ma è una docente? Certo Che cosa ha insegnato? Il laboratorio, ai massaggiatori e alle estetiste Alle future estetiste Tutti bravi? Tutte brave? Eh sì, se vengono in Assofram, sì Grande festa a Assofram White Party al Naif Qui a Nisida Lui è stato il gran cerimoniere Ladies and gentlemen Amici di Weekend Dance Mr. Flavio Sly Da oggi in confezione Spray Che meraviglia Assofram Dicevamo prima Dino Assa Assofram Assofram Ma la tua è stata una conduzione professionale Complimenti Sei il mio maestro Sei il mio maestro Tu sei fantasticamente simpatico Continuate a guardare le immagini su Weekend Dance Flavio Sly Assofram Non è il solito Tram tram Grazie a tutti Alla prossima Iu 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 We can dance. Un posto fantastico che noi di Weekend Dance lo consigliamo a voi che ci state guardando da casa. Si chiama Naif ed è proprio adagiato qui a Nisida. Lui è Edoardo, il proprietario. Complimenti e auguri. Grazie, è un posto da frequentare e venirci a trovare. Assolutamente. Come ha deciso il dottor Pagano di festeggiare la conclusione di questo anno accademico 2014-2015 di Assofram? Facciamo anche un report finale di come è stato quest'anno accademico. Un anno interessante perché al di là di quelle che sono state le nostre progettualità abbiamo avuto un grande riscontro. Qual è poi la mission di una scuola di formazione? Creare occupazione. Ebbene, tanti nostri allievi abbiamo avuto notizie negli ultimi mesi che hanno trovato comunque disponibilità di lavoro sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo. Ricordiamo che Assofram è una scuola di formazione che opera su tutto il territorio campano con i suoi corsi di estetista, di truccatori, di tatuaggio. E' veramente l'imbarazzo della scelta. Insomma, tanti tanti corsi proprio per tante tante opportunità di lavoro diverse. Poi questa sera questo posto è fantastico. Lui è un po' timido, ma lo faremo sciogliere magari con altri eventi che realizzeremo qui con Assoframi Weekend. Un posto è incantevole. Guarda, non è un timido, è un grande. Perché ha avuto l'idea di creare questa location che è spettacolare. Secondo me a Napoli non c'è di meglio. E siamo sul mare, una melodia, se fosse una canzone, il nostro padre della melodia napoletana, chi è? È Pino Daniele. Eh cavolo! Che nome gli possiamo dare a questa? Naife, vai, Naife! No, 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 Voglio Maro. Voglio Maro. E' bellissimo, è un posto sul mare, proprio adagiato sul mare, come abbiamo detto prima. E poi qua si fanno tante di quelle cose bellissime, eventi spettacolare. Io lo cediamo lì così, lo facciamo parlare così e chiaramente si abitua alla nostra telecamera. Come si organizza il Naife? Si possono festeggiare tantissimi eventi, no? Sì, dei compleanni di 18 anni. Feste a tema. Feste a tema. Qualsiasi tipo di cerimonia. Sì, anche feste di lauree. Pensate a tutto voi, pensate anche al mangiare, che gastronomicamente parlando qui si mangia bene. Bene, anche, abbiamo anche una sala ristorazione giù. Eh che bella che è quella, poi il pesce arriva direttamente col barcaiolo e ve lo porta. Eh sì. Fesce fresco. È vivo. È vivo! E di questi tempi è difficile mangiare pesce vivo. Naif, tutto questo è qui a Nesita. Provate, veniteci, mangiate qualcosa di buono e poi c'è divertimento su con la terrazza, no? Sì, sì. È da divertirsi e ballare su in terrazza. Sicuramente seguiranno il nostro consiglio. Complimenti ancora. Grazie a Dino Piacente e a Weekend Dance. Sicuramente magari saranno la。 Capita a Dino Piacente e a Weekend. I'm holding it all tonight I'm holding it all tonight